La squadra sta abbastanza bene, a parte tutto Gordò che ha un fastidio alla schiena e quindi dobbiamo valutarlo. In cambio recuperiamo Malè, recuperiamo Viarcaso e cercheremo di recuperare Felicioli almeno per la panchina. Ne portiamo 26, anche se siamo all'incuore, panchina ne possa portare 23. Però in questa partita voglio portare tutto il gruppo di disponibili perché la partita secondo noi è una partita importantissima per noi. Vogliamo stare uniti in questo momento e cercare di aiutarci uno con l'altro per portare a casa la vittoria. Prevedo una battaglia come sempre, è una partita difficile contro una squadra forte che ha dei valori, che è sicuramente ferita perché viene da una sconfitta immeritata, perché ha giocato una buona partita e quindi vorrà portare a casa dei punti e noi dobbiamo cercare in casa di vincere le nostre partite. Come ho detto tante volte, i campionati secondo me si fanno in casa e penso per noi deve diventare un fortino. Abbiamo già perso una partita, noi l'abbiamo vinta e secondo me è già sufficiente così per quello che riguarda le sconfitte. Ma intanto conosco bene il mister, è sicuramente una squadra che gioca a calcio, che comunque è il mister allenatore che gli piace il bel gioco, il gioco di un certo tipo. È una squadra d'utile che può giocare in vari moduli e ha dei giocatori tecnici, delle individualità importanti che può mettere in difficoltà chiunque, quindi bisogna stare assolutamente attenti. Per vincere questa partita dobbiamo essere al 100% e se non lo siamo fisicamente, lo dobbiamo essere dal punto di vista mentale. Sicuramente rientreranno due o tre giocatori che ho risparmiato in vista di queste due partite, che comunque giocando martedì e sabato abbiamo la possibilità di recuperare, però giocando invece sabato e martedì oggi si rischiava di aver fuori dei giocatori che comunque ritengo importanti. Chi ha giocato al loro posto comunque mi ha risposto bene e questa è una cosa importante. Comunque recuperiamo dei giocatori, qualcosa sicuramente cambieremo, ma non troppa roba.